Le stelle di Azus La luna è opposta e voi rischiate di prendere decisioni sotto la spinta delle emozioni, senza razionalità. Gemelli Venere è interessante non solo per l'amore ma anche per i rapporti sociali, per le trattative d'affari, per il contatto con il pubblico. Siete in una fase di crescita. Cancro Una giornata molto sensuale, con la luna che punta dritta al vostro cuore. Vi vorrebbe innamorati, capaci di esprimere senza remore le vostre emozioni. Leone La luna in scorpione vi agita. Sarete alle prese con tanti piccoli imprevisti che vi faranno innervosire parecchio. L'amore però sembra stabile. Vergine Con la luna in scorpione, riuscite ad essere molto più spigliati, sia sul lavoro che nella vita privata. Giornata positiva per chi attende notizie o conferme. Bilancia Un mercurio formidabile vi mette in comunicazione con tante persone nuove che possono diventare importanti per il lavoro. Amore stimolante Scorpione, c'è una bellissima luna nel vostro segno. L'amore sarà in primo piano, anche se dobbiamo registrare una certa tendenza ad esasperare alcuni discorsi. Sagittario Sagittario, l'importante è non farsi condizionare da certi cattivi pensieri che ogni tanto fate. In amore, in questo momento siete davvero troppo sospettosi. Caprecorno In amore è arrivato il momento della riflessione, della metamorfosi. Dovete capire se è giunto il momento di prendere decisioni definitive e coraggiose. Acquario Con venere in scorpione aumenta la vostra asmania di cambiamento, la vostra insoddisfazione. Cercate forse qualcosa di diverso, di più intenso. Pesci Con la luna favorevole ritrovate una certa fiducia in voi stessi e negli altri sarà una giornata ricca di incontri e di nuove opportunità, soprattutto in amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su Facebook alla pagina Oroscopo di Azus. Con l'oroscopo di Azus.